La cosa dirà domani, che questa è una squadra da scudetto, che la colpa è di altri, invece la colpa è sua, è l'unico responsabile, è il tuo amico Cairo. Vabbè, chiediamolo a Ciccio Graziani che sta... Vabbè, chiediamolo a Ciccio Graziani che sta... Ciccio Graziani che sta... Ciccio Graziani che sta...